Piazza la mappa e la plancetta di lato. Metti tre segnalini sugli spazi start. Questo qui, quello bianco del morale, e quello rosso dei soldati. Piazza tre partigiani nel rifugio e due nel caffè. Milizie e soldati da parte. Metti le risorse da parte a formare la riserva, assieme ai luoghi che puoi costruire. Questi sono gli indicatori di avanzamento di missione. Mescola le carte pattuglia. Scegli due missioni da compiere. Per la prima partita il regolamento suggerisce di usare le due missioni di livello zero. Questa e quest'altra. Piazzi queste due carte negli spazi in alto della mappa. In questo modo le carte missioni possono diventare dei luoghi dove piazzerà i partigiani per svolgere le azioni relative. Un giorno di gioco, un turno, è diviso in tre fasi. Quella di piazzamento, quella delle azioni e quella di fine giornata. Vediamo le prime due nel dettaglio. Sulla plancetta del morale è indicato, con un piccolo numero rosso, quante pattuglie devi piazzare per quel turno. All'inizio parti con tre pattuglie da piazzare. Le pattuglie possono essere formate da un misto di milizie e soldati nazisti. Determinato il numero di pattuglie che devi posizionare in mappa, alterna il piazzamento dei tuoi partigiani con il piazzamento delle pattuglie. Piazzi un partigiano e giri una carta per piazzare una pattuglia. Questo determina dove viene piazzato il segnolino nemico. La carta indica tre luoghi. Se il primo luogo è libero, cioè non contiene un partigiano e non contiene un'altra pattuglia, piazzi la lapidina. Altrimenti verifica il secondo luogo, oppure il terzo. Se tutti e tre i luoghi sono occupati, la pattuglia cerca di arrestare un partigiano. Quindi riparte usando sempre questa stessa carta dal primo luogo e se qua c'è una pattuglia salta secondo. Se qua c'è un partigiano o qua o qua c'è un partigiano, invece, quel partigiano viene rimosso dal gioco e la pattuglia prende il suo posto. I soldati, questi rossi, entrano in gioco allo stesso modo e si comportano come le milizie. Cambia solo che non possono essere eliminati, poi ti spiego. Un luogo in mappa può essere occupato da una sola pedina. Vuoi un tuo partigiano o vuoi un nemico? Faccio degli esempi di piazzamento, visto che è fondamentale l'ordine in cui lo fai. Piazzo un partigiano dal droghiere e pesco una carta per posizionare la prima pattuglia. Come ho detto prima, siccome il droghiere è già occupato, si verifica il secondo luogo, Ponte du Nord. A Ponte du Nord non c'è nessuno, quindi la pattuglia viene piazzata qui. Piazzo il secondo partigiano al radio B e giro un'altra carta. Anche in questo esempio, il radio B è già occupato. Il droghiere è già occupato. Questa pattuglia viene posizionata al mercato nero. Terzo partigiano lo metto dal dottore, giro una terza carta. In questo caso, radio A. Radio A è qui. Questo è il primo luogo libero di questa carta e viene piazzata la pedina qua. Può succedere che ci siano più pattuglie che partigiani. E in questo caso continuo a pescare tante di queste carte qui, sino che non le posizioni tutte. Occhio che a livello 1 di morale devi piazzare 5 pattuglie che sono tantissime e che ti bloccheranno tutta quanta la città. Perché il tuo scopo è non farti arrestare. Se dovessi pescare una quarta pattuglia e questo partigiano fosse qua e pescassi questa carta che abbiamo visto prima, questa quarta milizia dal droghiere non può andare. perché è già occupato. Al ponto du nord è già occupato, non può andare. Al fence non può andare perché è già occupata. Quindi riparte da capo. Droghiere. Il droghiere c'è un partigiano? Sì. Questo partigiano viene arrestato e viene piazzata una pattuglia. I partigiani arrestati vengono rimossi dal gioco e non li potrai più usare per tutta la partita. Ne hai al massimo 5, ti ricordo. La fase delle azioni. Nell'ordine che vuoi tu, attivi i tuoi partigiani. Uno alla volta, eseguendo l'azione del luogo in cui sono. Alcune azioni richiedono risorse specifiche per essere svolte. Per esempio, questo distretto qua richiede un cibo e una borsa delle medicine per alzare il morale della città. Quindi devi riuscire a spendere questi due segnalini qui per alzare il morale della città di uno. In quest'altro esempio, o dai una medicina o dai un cibo e ricevi un soldo, però abbassi anche il morale perché utilizzi il mercato nero. Anche sulle carte azione ci sono degli spazi azione tipo questo qua della carta ufficiale di palazzo oppure l'indicazione che quella missione perché il rettangolo è tratteggiato come lo vedi qua in quest'altra missione qui viene svolta in un altro luogo diverso dalla carta stessa che chiede in questo caso di piazzare un segnalino arma in Rubberadat non su questa carta missione. Alcune missioni richiedono più turni per essere completate tipo quelle di terzo livello che richiedono tre turni per essere completate oppure questa di secondo che ne richiede due. Non ti spiego tutti i luoghi perché i simboli sono abbastanza intuitivi e in ogni caso la lista di quello che fanno è riportato sulla carta aiuto. Questi incavati qui servono per costruire uno di questi luoghi speciali qua che una volta costruiti puoi utilizzare nei turni successivi per ricevere il beneficio. Per esempio questo quando lo visiti o ti dà tre medicine o ti dà tre cibi. Alcuni luoghi sono generici tipo questo che ti ho appena mostrato nel senso che puoi costruirle in tutte le partite mentre altri sono obbligatori per risolvere certe missioni. Ad esempio senza laboratorio chimico non potrai mai soddisfare i requisiti di successo della missione distruggi il treno perché questa chiede di piazzare qua tre segnalini esplosivo che non puoi ottenere in nessun altro modo se non visitando il laboratorio. Quindi in una partita in cui peschi questa missione per poter vincere dovrai costruire obbligatoriamente il laboratorio. Viceversa al massimo otterrai un pareggio. Risolte le tue azioni verifichi se i tuoi partigiani riescono a tornare ad un rifugio sicuro da cui partiranno il giorno successivo. Ogni partigiano per non finire arrestato deve poter tracciare un percorso queste strade bianche qua che sia libero da pattuglie dal luogo in cui è fino ad un rifugio sicuro. All'inizio l'unico rifugio sicuro è questo qua di partenza. Se non c'è un percorso libero quel partigiano viene rimosso dal gioco e non porta neanche a casa tra virgolette le risorse che gli avrebbe dato il luogo in cui ha fatto l'azione. Alcuni luoghi tipo questo o questo riportano questa icona qua. Indica che l'azione a differenza delle altre viene fatta anche se il partigiano verrà catturato. Facciamo degli esempi. In questa situazione il partigiano che è dal dottore riesce a tracciare un percorso anche questo dal droghiere. Questo che è il radio B è bloccato da questa milizia del black market e in questo caso questo partigiano viene arrestato e non risolve neanche l'azione del luogo. se invece la situazione fosse questa tutti e tre i partigiani riescono a salvarsi perché tutti e tre riescono a tracciare un percorso pulito fino al rifugio sicuro. Questa è la situazione peggiore che ti possa capitare perché taglia l'accesso alla safe house. Se sei in una situazione del genere dove il tuo partigiano sta costruendo un luogo e questo è bloccato riesce ugualmente a costruirlo anche se poi alla fine del turno questo partigiano lo perdi. Quest'icona indica che quest'azione la fai anche se viene arrestato non ovviamente quella del luogo che costruisci. Quindi in questo esempio il partigiano è riuscito a costruire questo luogo qua ma non fa quest'azione di propaganda fa l'azione costruire il luogo. se invece il partigiano fosse qui e costruisse questo edificio qua che è una seconda safe house siccome scegli tu l'ordine di svolgimento delle azioni dei partigiani in questo caso tutti i tre partigiani sono salvi perché si rifugiano qua. Nel regolamento c'è un'utile tabella che elenca i luoghi coinvolti nelle pattuglie cioè i luoghi che sono rappresentati in queste dieci carte qua. Inoltre come da regolamento puoi sempre guardare gli scarti di quelle che sono già uscite per ipotizzare quale sarà la prossima carta che peschi e quindi ipotizzare dove uscirà la prossima pattuglia. Per bypassare una pattuglia puoi spendere un segnalino arma se ce l'hai per ammazzare una singola milizia massimo una volta per turno indifferentemente da quanti segnalini arma hai in riserva. Ogni milizia uccisa viene rimpiazzato da un soldato nazista e ne tieni traccia di quanti soldati devi usare su questo indicatore qua. Soldati che sono più addestrati delle milizie infatti non li puoi uccidere. Ogni volta che entra in gioco un soldato come indicato qui abbassi il morale della città di uno. Oppure salvi un partigiano se quando piazzi quel partigiano assieme a quello ci metti anche un segnalino di falsa identità. Se quel partigiano verrà bloccato indifferentemente se da una milizia o da un soldato nazista puoi scartare questo segnalino qua e quel partigiano riesce a passare il posto di blocco e ritornare nella safe house a patto che non ci fosse questa ovviamente. Le arme all'inizio del gioco le prendi qua oppure dai rifornimenti aerei mentre le false informazioni le produce il falsario al costo esorbitante di documenti di intelligence e soldi appalate. L'ultima fase del turno fatta la verifica degli arresti rimuovi tutte le pattuglie dalla plancia. fai avanzare l'indicatore del giorno e se questo arriva su una casella di queste arancioni abbassi anche il morale di uno. Il regolamento si chiude con l'elenco delle situazioni di vittoria sconfitta e con cinque varianti di difficoltà per impostare la partita come meglio preferisci. Da quello molto facile a quello super difficile. grazie per aver guardato questo video alla prossima video e Grazie a tutti.